Ciao a tutti amici di YouTube, rieccomi qui sul mio canale, è stata una settimana con tanti appuntamenti, tante partite, ma il mercato che sinora è stato un po' dormiente, diciamoci la verità. In Inghilterra spendono e spandono come se non ci fosse un domani, last minute il colpo col sorpasso del Chelsea all'Arsenal in un derby milionario, alla fine 100 milioni complessivi al netto dei bonus per il passaggio di Mudrik ai Blues. E in Italia queste cifre ormai non le vediamo, anzi manco col binocolo, è un altro tipo di mercato il nostro, un mercato di operazioni di completamento, all'insegna dei pagherò, dei prestiti con diritto di riscatto, i veri colpi sono i rinnovi. E appunto di questo vi voglio parlare ponendo l'accento oggi sulla capolista, il Napoli, Napoli che sta dominando la Serie A, 18 giornate, 15 vittorie, due pareggi, una sola sconfitta a San Siro con l'Inter, una marcia straordinaria anche in Champions dove ha vinto il proprio girone, dando lezioni di calcio al Liverpool, all'Ajax, c'è un ottavo abbordabile con l'Antat Francoforte, insomma a Napoli si può sognare in grande. Ci sono già stati dei rinnovi importanti, ce ne saranno altri a breve, ma si entra nel vivo soprattutto per le stelle che vanno blindate onde evitare gli assalti delle big d'Europa. Adesso ci arriviamo, vi ricordo come fare per seguire, è molto semplice, innanzitutto vi ringrazio anche perché siete sempre di più, i video stanno andando molto molto bene, nel giro di 25 giorni siamo quasi 3000 sul canale, quindi vi invito a mettere il like, a seguirmi, a lasciare un vostro commento, quindi anche qualche vostro spunto, qualche riflessione, anche qualche consiglio perché è sempre ben accetto, così come eventualmente qualche critica, qualora ci sia qualcosa che non vi convinca, l'importante ovviamente sia motivata sempre con educazione e io rispondo sempre volentieri. Chi lo fa con maleducazione, con insulti, eccetera, può anche evitare di perdere del tempo, insomma non è obbligatorio stare qui, si può stare anche altrove o non accendere neppure il PC e aprire in questo caso YouTube. Detto questo, arrivo subito a bomba sul tema Napoli perché ovviamente ci sono diversi rinnovi, fatta per quello di Stanislav Lobot che è il direttore d'orchestra di questo Napoli, il rinnovo sia il 2027 con opzione per il 2028, 2 milioni e 8 netti, 500 mila euro di bonus abbastanza facili da raggiungere, totale 3-3 a stagione con opzione appunto per il 2028, è un rinnovo importante, qui manca solo veramente l'annuncio di Rito, il tweet presidenziale come solito fare in Napoli con i tweet di Aurelio De Laurenti che poi annunciano i rinnovi e le firme. Molto ben avviato anche il rinnovo di Amir Akhmani che ha fatto gol alla Juve che sta facendo comunque molto bene, sino al 2027, 2 milioni e mezzo netti a stagione per il difensore Kosovaro ex Verona, anche qui siamo in chiusura, addirittura ad arrivo nelle prossime settimane anche il rinnovo di Capitani di Lorenzo che ha un contratto comunque lungo in scadenza 2026 che può allungare sino al 2027, di fatto rinnovare a vita, anche per lui la cifra dovrebbe essere intorno ai 2 milioni e mezzo, 2-8, insomma si stanno limando le ultime cifre, la richiesta era di 3 e Napoli arriva a 2 e mezzo, ma comunque le sensazioni sono estremamente positive, anche perché insomma di Lorenzo è la bandiera, è simbolo il capitano, anche se si è parlato da parte di colleghi spagnoli di un interesse del Barcellona, anche c'è con terzino destro, qualche sondaggio nei confronti dell'entourage, nell'exempo che è stato fatto, ma non sono arrivate delle offerte concrete. Vi ho parlato ovviamente di queste cose, ma i temi caldi in casa Napoli, i piatti forti, quelli ricchi, quelli che ci piacciono raccontare a noi che seguiamo il mercato, ma ovviamente interessano anche la maggior parte di voi, riguardano le due stelle, le due sorprese, i due giocatori che sono arrivati per ereditare dei ruoli importanti, perché andava via il capitano Insigne, andava via un simbolo come Koulibaly, sono arrivati i vice a Varaskelia e Kim, Min, Yae, e beh, non hanno fatto rimpiangere i predecessori, anzi, li hanno spazzati via, li hanno fatti di fatto fuori, cancellati, dimenticati, kaput, auf Wiedersehen, anche perché Insigne è finito in Canada. Koulibaly, il Chelsea sta degudendo, il decimo in classifica e sta facendo anche le debutte prestazioni, quindi Napoli ci ha guadagnato, risparmia perché guadagnano nettamente meno, sono più giovani e sono anche più forti per il rendimento avuto, quindi complimenti aggiunto, complimenti a Peppe Pompiglio che è il suo braccio destro, a Maurizio Micheli, a Leonardo Mantovani, l'area scout, insomma Napoli sta facendo un lavoro straordinario per la gioia di De Laurenti, che ha abbassato il montengaggi del 30%, risanando il club e rendendolo ancora più competitivo, stanno dominando la stagione, se continuano così sarebbe uno scudetto meritatissimo. Chapeau, come si suol dire, e Termini è diventato in voga sui social anche perché utilizza spesso l'ex fantasista di Roma e Real Madrid, tra le altre Antonio Cassano. Ma torniamo appunto a queste questioni principali. Vi c'è Varascheglia. Varascheglia il Napoli lo vuole blindare, perché? Perché ogni settimana a San Paolo Maradona arrivano gli scout dei club più importanti al mondo. Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Newcastle. Stanno venendo tutti a vedere Varascheglia, chi più, chi meno, chi è già venuto due o tre volte, chi una volta sola, ma è chiaro che piovono a crediti da parte degli osservatori di mezzo Europa e soprattutto della Premier, che sono i più danarosi e possono tirar fuori 100-120 milioni, che è una cifra che potrebbe ingolosire il Napoli, anche se oggi il Napoli fa sapere il giocatore è incedibile, non è sul mercato, dovrebbe arrivare un'offerta sciocca, almeno 150 milioni, solo che il Premier hanno talmente tanti soldi che, insomma, bisogna stare attenti che potrebbero presentarsi anche con quella cifra in estate. Però il Napoli non vuole correre i rischi. Varascheglia guadagna pochissimo per il valore che sta dimostrando. 1 milione e 100 mila euro a stagione, 1,7 costolò azienda per il Napoli all'ordo perché beneficia pure del decreto crescita e quindi c'è l'idea in queste settimane di rinnovare il contratto. Mamushka Yugeli, il suo agente, è stato in Italia nei giorni scorsi, era a San Siro a vedere Internapoli con l'intermediario Cristian Zaccarto. Stanno lavorando per trovare una quadra per rinnovare, la scadenza è lunga, 2027 può essere la stessa, si può allungare sino a 2028, ma per rimodellare le cifre ad almeno 2 milioni e mezzo minimo di base fissa con una serie di bonus per scavallare i 3. Si tratta in tal senso, ma se Varascheglia continua così, la sensazione è che si arriverà direttamente almeno a 3 per il rinnovo più bonus e quello è uno step importante. Su Varascheglia è un retroscena perché un anno e mezzo fa, estate 2021, anzi primavera 2021, Fabio Paratici era vicino a prenderlo. Alla Juve l'aveva bloccato, c'era un'intesa di massima, poi Paratici salta nelle settimane successive, viene promosso Cherubini, arriva Max Allegri, ovviamente tra Allegri e Paratici non c'era la possibilità di convivenza, quindi Paratici viene defenestrato, va al Tottenham, al Tottenham in quel ruolo c'era Sonne e quindi ovviamente molla la presa per Varascheglia che viene proposto a tanti club inglesi, con scarso successo evidentemente, anche in Italia Milan e Inter che però non approfondiscono per motivi diversi, tattici l'Inter giocando il 3-5-2, essendo Cileao in quel ruolo il Milan era coperto, alla fine l'unica, credaci, l'unica a muoversi davvero in questi mesi dopo tanti sondaggi è il Napoli, perché poi adesso sentirete parlare agenti, intermediari, dirigenti, tutti lo conoscevano, tutti lo volevano, tutti sapevano che era fortissimo, però ci crede solo uno, Cristiano giunto ai aeroporti a Napoli, l'anno scorso a gennaio, come avevamo anticipato, lo scorso 29 gennaio, l'accordo di massima, poi la chiusura dell'operazione a marzo, un colpo straordinario, e Napoli che appunto si gode Vicia Barascheglia, che sta facendo cose stratosferiche, certo per la Juve può essere un rimpianto di mercato, aperta e chiusa parentesi su questo retroscena, l'altro tema caldo è quello di Kim Miae, perché fine febbraio, primi di marzo i suoi agenti saranno a Napoli, e anche qui bisogna discutere il rinnovo, perché il contratto non è lunghissimo, scadenza 2025, è vero che c'è un'opzione per il 2027, ma c'è una causa recissoria da 50 milioni, e in Premier la pagano come bere un caffè o un bicchier d'acqua, ecco perché bisogna correre i pari, bisogna allungare il contratto, bisogna rimodulare le cifre, oggi lui guadagna 2 milioni e mezzo, anche qui bisogna passare almeno a 3 e mezzo, se non 4, per togliere la causa recissoria, questo è l'obiettivo di De Laurenti, se è giuntoli, è dell'avvocato Chiavelli, l'uomo dei contratti in casa azzurra, oppure via alzarla, se adesso è di 50, alzarla almeno a 70-80 come minimo, quindi lavora in corso, ma il Napoli vuole blindare le sue stelle, per essere competitivo nel presente, vincere lo scudetto, ma aprire anche un ciclo. Vi ringrazio per avermi seguito, l'appuntamento è nei prossimi giorni, con tante altre novità di mercato, mettete like al video, condividetelo, insomma vi aspetto sempre più numerosi. Alla prossima, ciao a tutti!